La protesta di Rossella Io credo che noi dobbiamo ricordarci che lì ci sono esseri umani, uomini, donne, bambini con nomi e cognomi, con storie, alcune molto dure, lì ci sono anche ragazze vittime di tratta costrette a prostituirsi e che erano terrorizzate. Non c'è motivo di utilizzare la paura in questa maniera per gestire il trasferimento di esseri umani. Io credo che sia stato quello che mi ha poi spinto a mettermi a frappormi alla partenza del PUM. Vuol dire ob audire dal latino, vuol dire ascoltare stando davanti, quindi comprendendo quello che ci viene detto. A quelle persone nessuno ha detto che cosa accadrà di loro.